Due persone denunciate in stato di libertà e dodici per uso personale di sostanze stupefacenti. Un centinaio le persone controllate, tra cui circa una quarantina sottoposte agli arresti domiciliari. In totale 30 uomini impiegati su 10 mezzi e dislocati sulle principali arterie stradali. Sono i numeri del ferragosto sicuro voluto dai carabinieri della compagnia di Andria su tutto il territorio di competenze, cioè comprese le città di Minervino e Spinazzola. Ad essere deferiti in stato di libertà sono stati ad Andria due automobilisti colti dai militari dopo l'alcol test in stato di ebbrezza alla guida delle proprie autovetture, con il conseguente ritiro delle rispettive patenti. I controlli dei carabinieri hanno permesso anche di segnalare dodici persone quali assuntori di stupefacenti, tutti giovani pugliesi, tra i 17 e i 27 anni, controllati e fermati nel centro storico di Andria con cospicue quantità complessive di stupefacente sequestrato del tipo hashish, cocaina e marijuana. I controlli su strada invece hanno permesso l'elevazione di 20 contravvenzioni al codice della strada.